Pian qua, pian, 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 qua, so, pian, qua, so, pian, qua, so, eh, cosa, cosa potrei fare? Eh, eh, roba, perché la gente si sbaglia. Ma, ma la gente qua ha paura. E tu ti piene di paura, ma cosa c'è, ma dove sei che siamo andati all'inferno qua? Eh, no, guarda qua. Eh, no, che si è ancora contenta, che si è ancora. Eh, Lucia. Ma va tutti su qua. Siamo sicuri che sono andato a passarlo, che c'è la direzione in Francia. Sì, da il semaforo, Mario.